sette e mezza, una volta che arrivo prima a casa e mi voglio fare una doccia piena di parrucchie io non faccio l'idraulico, ti sembro l'idraulico io, c'è la caniccia e le manine che firmanico tratti, ma se serve che non è un uomo per fare queste cose, non serve l'idraulico per forza ma che uomo è uomo, io faccio l'agente immobiliare e faccio lo stappatore della manina